In fondo a fare gol, prima o poi, riescono tutti. C'è chi ha segnato chiudendo gli occhi e calciando più forte che poteva. Chi ha fatto gol senza neanche volerlo, perché il caso ha deciso di fermarsi a benedirlo. L'assist invece no. L'assist non può nascere dal caso. C'è sempre un pensiero positivo dietro un ultimo passaggio. E c'è la tecnica, la precisione. No, l'assist non è un lavoro per chiunque. Ibra, per Salasjeta, gran palla col tacco di ritorno. Ibra Imovic, 3-3. Partita incredibile al Franchi. Salas, grande azione del Cileno fino in fondo. Treseguet, 1-0 Juve, Marcello Salas e Treseguet. Platini, lancio perpendicolare in area di rigore. Il pallone che rimbalza e poi Serena che si inventa un pallonetto incredibile. O Zidane, in ritardo alla difesa della Juve sulla chiusura. Ce n'era di rigore ancora. La palla però è per Kovacevic. Grandissimo gol della Juve, grandissimo. Sine di Zidane. Laudrup sul pallone. La Juventus che si è riversata in avanti con Mauro. Adesso va via. Tiene il pallone in campo all'indietro. Michel Platini non ci pensa due volte. Batte inesorabilmente il portiere avversario. Del Piero. Può saltare Blanc. Del Piero s'allarga. Fin nel fondo in area di rigore. Centro in Zaghi. 1-0 Juve. Pippo in Zaghi. La Juventus ancora con Roberto Baggio. La finta di Baggio. Va via la palestra per uscire. La rimette in mezzo e poi le tocco. Sotto porta di Andy Miller. La Juventus sta domando l'opaca Lazio di Chinaglia. Semina mezza difesa bianco celeste e vale il 2-0. L'assolo del barone, Franco Causio. Causio. Grande azione di Franco Causio. L'assist per Anastasi. Gol del 2-0. La Juventus deve vincere per avere la meglio nella corsa a scudetto sulla Roma. Briaschi. Grande finta. Controfinta. Ancora in area di rigore. Briaschi mette al centro. Laudrup porta vuota. Non può sbagliare. Miki Laudrup. La Juventus sta annichilendo la Roma. Il Poker lo serve su un piatto d'argento lubriacante serpentina di Thomas Heisler. Thomas Heisler, in area di rigore. Grande slalom. Ancora Heisler. Schillaci. E del gol del 4-0. Grande azione però del tedesco. Ex-Cars 2. E del gol del 2-0.